Amici del Piccole Magazine, sono in compagnia della bellissima Ego Lilith, la Miss Uscente, e sono in compagnia di Kimba Gashan, che questa sera è stata la più amata dal pubblico. Come ti sei sentita quando hai vinto questo titolo? Allora, in realtà questo titolo per me vale veramente tanto, perché comunque, diciamo, per quello che è la mia comfort zone, è sempre comunque poter essere, tra virgolette, parte del popolo. Cioè, comunque poter piacere alla gente, di cui appunto, dalla comunità di cui faccio parte. Questo secondo me è un grandissimo onore, per me appunto detenere questo titolo è veramente importante, perché secondo me è anche rappresentativo comunque di quello che è la mia comunità e non solo. Che cosa pensi che di te abbia colpito il pubblico? Secondo me comunque tutta l'energia, non per essere magari un magnate, però comunque anche un pochino la giuninità e la semplicità del mio numero. Hai i prossimi obiettivi da raggiungere? Allora, quello che sto cercando di fare adesso comunque è di poter proseguire nella mia carriera, quindi comunque iniziare comunque a trovare quelli che sono i miei ambiti più pertinenti per me. Quindi comunque il prossimo obiettivo è quello di approfondire ancora di più la conoscenza di quello che è la mia arte. Grazie Michel. Io e Kim abbiamo condiviso il palco dell'Academy dell'anno scorso, siamo le penultime uscite diciamo, e devo dire che è molto bello condividere di nuovo un palco con te, e ne approfitto anche per farci un attimo di pubblicità, perché noi il 30 di maggio apriremo un nuovo tipo di aperitivo qui a Bologna, quindi veniteci a trovare, tutte informazioni sui nostri canali social. Complimenti ancora Kim, perché devo dire che ti trovo in ottima forma, ma sei splendida più che mai oggi. Grazie mille. Concordo assolutamente con te, è stato veramente, ci hai fatto sorridere, ci hai fatto divertire, sei stata veramente brava. Grazie mille. Congratulazioni per la tua fascia, grazie mille Golilith per essere stata con noi e per averci accompagnato durante questa bellissima serata. Mi raccomando rimanete aggiornati su tutti i canali social delle nostre drag, e sui nostri canali del piccolemagazine.tv Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.